Rocker TV a lezione con, io sono Andrea Botte dei Pancreas e oggi volevo parlarvi di ska, questo sconosciuto almeno era così per me. Quando ho iniziato a suonare coi Pancreas, nonostante avessi lavorato con molte band ska, io faccio anche il fonico, il tour manager, quindi diciamo ho più ruoli e lavoro a 360 gradi nell'ambiente musicale e nonostante soprattutto ascoltassi molte band ska non lo avevo mai suonato, quindi nel dover imparare la discografia della band è sicuramente la cosa che mi ha mandato più in difficoltà e dove li avevo tutti un pochino più addosso perché magari mi veniva meno spontaneo, soprattutto non solo suonarlo ma il muoversi mentre suoni una cosa che sembra una banalità e non lo è per niente. Chi mi ha visto dal vivo, io sono uno molto viscerale, salto, corro, faccio, sudo, lancio, mi piace far così, con lo ska sembrava che mi inchiodassero un pochino i piedi a terra perché ci ho messo un pochino a farlo mio appunto. Ma soprattutto il giorno in cui mi hanno chiamato i Vallanzasca perché il buon Lucius, chitarrista appunto dei Vallanza, si è rotto il ginocchio e non poteva prendere parte al tour, mi hanno chiesto di sostituirlo e io ho avuto tipo cinque giorni per imparare 21-24 pezzi dei Vallanza, non me lo ricordo, una prova, la scaletta durava quasi due ore, la prova è durata un'ora e mezza perché i tempi erano risicati, quindi ero totalmente nel panico no perché l'esperienza sul palco ce l'avevo, però insomma ero bello nervoso e agitato perché era un argomento, è un tipo di sound, è un genere musicale che non sentivo proprio nelle mie corde come chitarrista, invece me la sono cavata bene, a meno che così dicono gli altri, e mi sono sbloccato. E infatti qual è il messaggio di questa pillola? Lanciatevi ragazzi, non abbiate paura, osate, provate, anche quello che non sembra vostro, che non sentite nelle vostre corde, che non vi viene naturale, poi vedete i risultati, non tutti siamo bravi a fare tutto, questo è sicuro, però se non ci si provano lo saprai mai. Rocker TV a lezione con.